Ma la cosa più importante, signor Valeri, è che voi cerchiate di accettare quello che è successo. Questi bambini sono normali. I genitori riconoscono i loro figli, lo sanno che cosa sentono. E i colori come sono? Sono belli. Il blu è come quando vai in bicicletta e il vento ti dispiace che è in faccia. Ti insegno un segreto che ho visto quando i grandi musicisti suonano. Loro chiudo gli occhi per sentire la musica più intensamente. Ho sentito? E cosa sarebbe? Il vento, no? Anche toccando il viso di una persona si può capire se è bella o brutta. Posso sentire anche la voce. La libertà è un lusso che noi ciechi non ci possiamo permettere. E togliamo la cosa più bella che in questi anni si portano dentro. I loro sogni. Alessio! 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 Alessio!